Salve ragazzi, sono di nuovo io, MindZero, e sono qui oggi per mostrarvi qualcosa di nuovo, un sito di giveaway, un sito dove potete spendere i vostri coin e tentare di vincere giochi di Steam. Esattamente. Oggi visiterò PlayBlink, un sito abbastanza conosciuto ma non da tutti, in cui con alcune semplici mosse potete tentare la fortuna e vincere qualcosa di interessante. Questo sito purtroppo non dipende tanto dalla vostra abilità e non rientra tanto nei video che farò successivo a questo riguardanti modi per guadagnare, ma credo che comunque questo sito potrebbe tornarvi utile, potrebbe interessarvi. Quindi perché non mostrarlo? Quindi da MindZero è tutto e vi lascio il video dedicato a PlayBlink. Buon divertimento. Ciao ragazzi, sono MindZero e oggi vi presento un nuovo sito chiamato PlayBlink. PlayBlink è un sito che molti di voi, per chi lo conosce già, associerà a SteamGift per il suo funzionamento. Per chi non lo conosce, a breve lascerà un video che vi parlerà appunto di SteamGift. Però oggi concitiamo sul PlayBlink. PlayBlink, per iniziare visitiamo un profilo di un utente, in questo caso il mio. Allora, nel profilo dell'utente potete trovare tantissime cose interessanti. Allora, qua è la registrazione, la data di registrazione. Il rank, il rank è importante ragazzi. Fidatevi in questo sito, il rank è importante, perché vi permette di accedere a determinati giveaway. Ma ci arriveremo tra poco. Abbiamo il livello, che dipende da quanto voi avete donato al sito come game, cioè quanti key avete messo in palio su PlayBlink, lo status che dipende da quanti soldi avete donato al sito perché si mantenga e tante altre cose, il numero di giveaway in cui siete entrati, il numero di game vinti, il numero di game che avete messo, il numero di game che avete vinto nella chat e il score dei due minigiochi, più il profilo Steam. Allora, iniziamo parlando del rank, perché il rank è un punto molto importante. Per aumentare il proprio rank, quando vi scrivete e avete il rank bronze, dovrete fare gli achievements. Esattamente, completando questi achievement guadagnerete percentuale. Ogni tot di percentuale aumenterete di grado, diventerete sempre più più alti. Passerete dal bronze al silver al gold e, se non erro, al platino o al diamante. Adesso ho un voto di memoria. Molti di questi giveaway sono facili, tipo entra in un giveaway, entra in 5, entra in 50. Il problema è che, man mano che li fate, arrivertisi facilmente al silver. Ma riuscire ad arrivare al gold tramite gli achievement è dannatamente difficile. Il motivo? Qua sono tipo due minigame che potete giocare, Blink Shooter e Blinky Led. Dovrete arrivare ad avere anche un certo score di 30.000. Non è facile, fidatevi. Comunque qua c'è davvero tanto, tipo donare dei punti, donare dei giveaway, connete se il sito per 180 giorni di fila, il mio massimo è stato 30, perché riuscire a fare 180 giorni è praticamente impossibile. Beccate il giorno che magari la connessione non vi va o siete fuori tutto il giorno, mandi, proprio ciao ciao. E ci sono davvero tantissime cose che potete fare, guardate quanti ce ne sono. tantissime. Ok, parlato di questo fattore del rank, arriviamo alla pagina principale. Perché è importante il rank? E perché è importante il livello? Allora, il livello sarà un po' difficile che lo aumentiate se non date giochi e non donate. Quindi, vi do un consiglio, mettete questo filtro così, se non volete i giochi, i minigame, blink, blink like, non mi ricordo bene come si chiama, come si chiama, beh, dettagli, mettete random, mettete show 10, not entered. Questa qua, e se non volete, volete proprio giveaway istantanei, premete click here to blink e volete entrarci. Ok, se siete livello 1, potete fare soltanto appunto i giveaway di livello 1. Comentare nei giveaway. Ogni ora vi daranno un punto. Potete al massimo conservare 50 punti. Quindi, diciamo che un consiglio che vi do è tipo, loggare al mattino o al pomeriggio e poi fare tutto quello che c'è e rilogare il giorno dopo alla stessa ora per avere punti punti per spendere. Come entrare? Basta vedere il numero di giorni, il numero di entry, chi l'ha fatto e quanti punti chiede. Clicchiamo, facciamo ok e siamo entrati nel giveaway. Così, tutto facile, è facilissimo. Basta continuare a fare così, su tutto quello che vedete. Magari voi volete scegliere cosa vi interessa e cosa non vi interessa, ma vi dico, a livello personale, i giveaway di livello 1. Non sono tanti. Guardate, rimangono 3 ancora. Vi conviene entrare in qualsiasi cosa vedete. Indipendentemente se il gioco lo avete già o no. A livello personale vi dico, prendete tutto. Mal non fa. Ok. Abbiamo finito i giveaway di livello 1. Infatti adesso vedete, no giveaway with selection. Questa qua è la chat. Ogni tanto può succedere che non in questo caso, evidentemente. Ecco qua. Qualcuno avete delle steam di steam key. Per ottenerle basta che siate i primi a cliccare il cazzo di redeem. C'è una differenza però. Tipo, questi viola sono redeem di persone di livello più alto e voi non potete entrarvi. potete entrare soltanto nelle steam key di livello 1. Tipo queste qua, che sono in verde. Tipo qua, da uno Chernobyl comando, Actua e altre cose. Si può fare refresh se si vuole, ma di solito o sia la fortuna di aprir il sito e beccarsi il giveaway direttamente in faccia, oppure è difficile, molto difficile. E sono riuscito a vincere soltanto 7 finora. E sono scritto dal 2012, quindi. E anche di giochi. 2012 solo 7 giochi sono riuscito a vincere. che sono questi qua. Serosem, giusto se vi interessa sapere cosa ho vinto. Comunque no, non ci sono truffe. Se avete dei dubbi, non ci sono truffe. Kotor. Ci sono un bel po' di amnesia. Ecco appunto, l'unico difetto che potrete di questo sito è che veramente la possibilità di vincere i giochi se si è livello 1 è bassissima. Se si è di rank silver, quindi si può succedere anche alla sezione di rank silver. Anche qua, anche avendo il livello 1 è rank silver, la possibilità è veramente bassa. Comunque vi consiglio di provare. Magari se siete interessati e volete perderci. Tanto, come avete visto, a parte la spiegazione e tutto, per entrare in tutti i giveaway ci ho messo meno di un minuto. Quindi vi consiglio francamente di iscrivervi a PlayBlink. Non ci perde tanto. L'unico modo però che potete accedere a PlayBlink, c'è un però. Dovete avere almeno 100€ di Steam. In che senso? Non intendo 100€ nella carta Steam. Dovete aver comprato almeno giochi che abbiano un valore complessivo, tutti in quantiera, così insieme, di 100€. Cosa che non credo sia molto difficile. Credo che molti di voi acquistano, se siete venuti a vedere questo video, Humble Bundle e quelle cose lì. Sì, se avete dei dubbi, Humble Bundle, anche se comprate giochi a 1€, Steam ve li valuta per il loro valore di negozio, valore di mercato. Quindi se magari non avete questa fortuna, vi consiglio di o prendere delle Steam Key gratis, che danno vari siti, con varie offerte e cose così, o comprare qualche Humble Bundle e levate la giusta cifra e scriviva PlayBlink. Tutto qua. Questo era PlayBlink! Spero che il video vi sia servito. Lascio come sempre il refill in descrizione. Sì, perché il refill serve, perché aumenta la possibilità di guadagnare nuovi punti e aumentare il proprio rank. Quindi se non vi dispiace, visto che vi ho fatto vedere appunto le funzionamenti di PlayBlink, se avete intenzione di iscrivervi e usate il mio refill, vi farete un grandissimo piacere. Quindi da MindZero è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video con una nuova offerta. Bye bye!